Yo Willers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi. Siamo qui tornati su F1 Manager 2022 per il quarto round stagionale, il GP dell'Emilia Romagna in quel di Imola all'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari. Ovviamente se non avete visto l'ultimo episodio, il round numero 3, il GP d'Australia all'Albert Park. Cliccate in questo momento nell'angolo in alto a destra e recuperatelo prima di dare un'occhiata a questo episodio. Che dire ragazzi, abbiamo avuto un inizio di stagione assolutamente sensazionale nelle prime tre gare, visto che abbiamo conquistato il massimo dei punti, meno uno, meno il giro veloce che non siamo riusciti a conquistare nel circuito dell'Albert Park. Per il resto 3-1-2 di fila con tre vittorie a sorpresa di Carlos Sainz nei confronti di Charles Leclerc. Vediamo se riusciremo nel Gran Premio di casa a conquistare ancora un altro grande risultato, a continuare questo incredibile ruolino di marcia e magari che sia stavolta Charles Leclerc a riuscire a conquistare una prima vittoria stagionale, visto che sicuramente il suo morale non è alle stelle, viste le condizioni di forma incredibili del suo compagno di squadra. Che dire, vi chiedo come sempre di lasciare un bel mi piace e vi ringrazio ancora una volta per l'incredibile supporto che mi avete dato in questi primi episodi della serie. Avevo messo un limite diciamo di 20 mi piace, ma vedo che sta conquistando molti più mi piace rispetto a questo obiettivo che mi ero messo all'inizio della registrazione di questa carriera. Quindi se riusciamo a puntare anche a 30, 40 mi piace, vi ringrazierei veramente tantissimo. Quindi mi raccomando, lasciate in questo momento un bel mi piace sotto questo video, lasciate un vostro commento con il pronostico riguardante la prossima gara. Andiamo subito nella schermata dei circuiti, prossimo Gran Premio GP di Miami Stati Uniti, questa è la panoramica del Gran Premio. Fatemi sapere secondo voi che posizioni riusciremmo a conquistare nel Gran Premio di Miami nel quinto Gran Premio stagionale. E ovviamente se già non lo siete, se è la prima volta che venite qui sul canale, vi invito anche, se volete, nessuno vi costringe ad iscrivervi al canale e nel caso cliccate anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Detto questo ragazzi, non perdiamo altro tempo, tuffiamoci all'interno di questo weekend di gara in casa, Emilia Romagna Grand Prix. Andiamo sulle email, abbiamo tutti le mail della pre-fine settimana, produzione del progetto per allentone F22.2, lo abbiamo completato e avevamo anche già installato il nostro alettone aggiornato sulle due vetture preparativi pre-gara. Quindi andiamo nella schermata di gara e andiamo subito ad impostare gli obiettivi prestazionali di questo fine settimana. Impostati gli obiettivi prestazionali per il fine settimana, clicchiamo su Continua e scendiamo in pista per il nostro weekend di gara. A sud vediamo le verdi colline toscane, ma qui a Imola è imperversa un caldo rovente. Benvenuti in casa Ferrari per il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Il tracciato c'è dagli anni 60, ma la prima gara ufficiale di Formula 1 fu nel 1980. Vediamo quali sorprese saprà regalarci. Questa è Imola, un tracciato a vecchia maniera in cui non mancano dislivelli e tantissime curve. C'è un'unica zona DRS, ma segue il lungo rettilineo che precede il tamburello. In quel tratto ci si divertirà. Anche se la stagione è appena iniziata, le emozioni non danno un attimo di respiro. In questa fase non c'è ancora nulla di certo e tutto può accadere. Non c'è nulla come un weekend di Formula 1. Ed eccoci pronti nella schermata pre-prove libere 1. Possiamo proseguire, visto che gli obiettivi, come detto, li abbiamo già impostati e andiamo subito ad impostare anche gli assetti delle nostre vetture. Assetti impostati, andiamo alle prove libere 1. Gestiamo le nostre prove libere. Confermiamo la nostra scelta. Eccoci pronti, andiamo a far scendere in pista entrambi i nostri piloti. Charles Leclerc pronto a scendere in pista. Ecco l'animazione. Del momento in cui il pilota Monegasco va in pista, seguito subito dal compagno di squadra Carlos Sainz, noi, come sempre, ci rivediamo direttamente per l'inizio delle qualifiche. Ci siamo. Siamo pronti per l'inizio del sabato di qualifiche. PL1 e PL2 che abbiamo seguito direttamente, abbiamo gestito, mentre abbiamo, come nell'ultimo episodio, simulato le PL3, visto che comunque con l'assetto avevamo fatto un ottimo lavoro. Risultati nelle PL1, Carlos Sainz ha dato quasi due secondi a Max Verstappen, con Charles Leclerc in quarta, ma c'è da dire che abbiamo fatto spingere al massimo Carlos Sainz, mentre nelle PL2, idem, con Sainz che ha dato un secondo e otto a Verstappen. Terzo, Charles Leclerc, che ha fatto più un lavoro sul lungo periodo, mentre nelle PL3, in cui abbiamo simulato Charles Leclerc in vetta, con 65 millesimi di vantaggio su Max e tre decimi e mezzo sul compagno di squadra. Per quanto ci riguarda, quindi, ottime sensazioni. Durante le prove libere, con assetti molto elevati, 97% per Charles Leclerc, 96% per Carlos Sainz, non dobbiamo ritoccare nulla, quindi avviamo le nostre qualifiche e andiamo a gestire il Q1. Radiocheck andato per noi, quindi possiamo scendere in pista tranquillamente con entrambi i nostri piloti. Abbiamo montato la gomma rossa, ne abbiamo tre a disposizione, però dovremmo averne uno in più, teoricamente, per l'ultimo settore, diciamo, l'ultima sessione, scusate, di qualifica. Se dovessimo, naturalmente, arrivare fino al Q3, non dobbiamo ritoccare nulla, quindi possiamo tranquillamente arretrare, tornare indietro e far scendere in pista entrambi i nostri piloti. Per quanto ci riguarda, voglio provare, visto che nei commenti qualcuno di voi mi ha scritto di provare a far girare la vettura in automatica, anziché andare a gestire il giro di qualifica in manuale, voglio provare e vedere la differenza tra la gestione automatica e la gestione manuale, e vedere se realmente la gestione in automatico possa garantire un tempo più veloce ai nostri piloti. Charles sta andando a completare il suo giro, primo settore verde, secondo Fuchsia, invertiti invece per Carlos Sainz dietro di lui, che sicuramente trova una pista leggermente più gommata. Charles Clark chiude in 1.15489, subito un ottimo tempo da parte nostra. Sainz si ferma a 66 millesimi dal compagno di squadra. Secondo me si tratta già di un tempo ampiamente buono per garantirci il passaggio nel Q2 e vedendo il tempo di Albon abbiamo un vantaggio di 3 secondi e 2 o Albon ha fatto un errore oppure significa che è già un ottimo tempo da parte nostra quello fatto segnare dai nostri due piloti. Non aveva senso scendere nuovamente in pista perché il nostro tempo è ottimo. Charles Clark primo con 1.15489, seguito dal compagno di squadra in 1.15555, davanti ad entrambe le Red Bull ed entrambe le Mercedes e sembra confermato quindi che la gestione in automatico possa dare un leggero vantaggio, gestiscono abbastanza bene il loro giro in automatico i piloti durante le qualifiche. Quindi proseguiamo e possiamo scendere in pista per l'inizio del nostro Q2. Andiamo a gestire le qualifiche 2 e direi di farli anche scendere in pista subito i nostri piloti. Magari possiamo pensare di farli scendere in pista con la gomma usata nel Q1, visto che non l'abbiamo usata praticamente nulla. È una gomma al 92% e valuteremo come gireranno i nostri due piloti con questa gomma. Poi nel caso li faremo scendere in pista nuovamente nella parte finale di questa sessione di qualifica. Siamo on board con Charles Leclerc per il termine del primo giro di questa sessione di Q2. Addirittura Fuchsia nel primo e Fuchsia nel secondo per lui. stavolta sta battendo in entrambi i settori. Il compagno di squadra ultima curva è a lungo finale per il pilota Monegasco che va a tagliare il traguardo in 1.15.398, addirittura meglio del suo giro nel Q1 con Sainz che si ferma a 167 millesimi. Vediamo se sarà un tempo buono, forse non per battere le Red Bull stavolta, ma secondo me può essere un tempo buono per passare nel Q3 tranquillamente vista la differenza che avevamo denotato già nel Q1 rispetto a tutte le altre vetture. Sono curioso di riscendere in pista con i nostri piloti. Andiamo prima con Charles Leclerc e poi con Sainz. Sainz il giro precedente lo ha fatto con gomma nuova, non mi ero reso conto, avevo rimontato la gomma precedentemente, non la gomma precedentemente utilizzata, ma una gomma nuova, mentre Charles ha fatto il giro con gomma usata. In questo momento stanno montando entrambi una gomma usata, perché comunque penso che il nostro giro sia abbastanza buono per passare tranquillamente nel Q3. quindi voglio provare solamente un giro con gomma usata a vedere se riescono ulteriormente a migliorare il proprio tentativo. Eccoci on board con Charles Leclerc che aveva migliorato nel primo settore, ma purtroppo ha trovato del traffico. Mentre Guanyu Xiu non capisco, ancora devo capire questa icona cosa significa. Purtroppo Leclerc ha trovato traffico, quindi non migliorerà il suo tentativo. Infatti secondo e terzo settore è giallo, così come Carlo Sainz. Quindi semplicemente dobbiamo aspettare il termine della sessione, però ho visto che anche con gomma usata i nostri piloti riescono ad avere una buonissima prestazione, quindi sembra che questa gomma rossa possa avere anche più di un giro di prestazione. Ottime sensazioni per noi in questo Q2 con Charles Leclerc che fa la miglior prestazione anche con gomma usata nel Q1, seguito da Carlo Sainz, vicino Max Verstappen al pilota spagnolo. Sembra che Charles Leclerc possa avere un leggero edge nei confronti del compagno di squadra in questo fine settimana. Comunque gli aggiornamenti all'ala anteriore sicuramente stanno funzionando molto bene. Proseguiamo e siamo pronti a scendere in pista per l'inizio del Q3 e direi che con Charles possiamo tranquillamente gestirci una gomma nuova sia nel primo che nel secondo tentativo, mentre con il nostro Carlo Sainz solo una gomma nuova a disposizione, perché una la vorrei tenere ovviamente per la nostra gara, quindi proviamo ad utilizzare gomma usata 83%, quindi molto usata e poi utilizzeremo una gomma nuova per l'ultimo tentativo della sessione. Avviamo il nostro Q3 e andiamo a gestirlo ovviamente direttamente e li facciamo direi scendere in pista subito per il loro giro. Ritorno in pista prima Charles Leclerc e a seguire Carlo Sainz. Vediamo se Carlos riuscirà a sfruttare in questo giro la scia del compagno di squadra, poi naturalmente cercheremo di invertire le due posizioni per il secondo e ultimo tentativo di questa ultima sessione di qualifica. Charles Leclerc verde nel primo settore, battuto dal compagno di squadra che sta usando gomma usata, vi ricordo, quindi Sainz verde nel secondo, settore fucsia nel primo, Charles Leclerc sta andando a chiudere, seguito dal compagno di squadra, Charles Leclerc chiude in 1.157, peggio del precedente tentativo con Sainz comunque a 174 millesimi. Sembra che la pista stia peggiorando man mano che si va avanti, quindi dobbiamo tentare un nuovo giro con entrambi, con gomma nuova. Vediamo cosa faranno le due Red Bull naturalmente nel secondo tentativo. Dobbiamo cercare di migliorare, visto che comunque i nostri tentativi sono peggiorati rispetto al Q1 e al Q2, ma mi sembra che sia il meteo stia leggermente cambiando, probabilmente stiamo arrivando semplicemente al tramonto, quindi le temperature della pista stanno cominciando a scendere. Siamo qui ai box, teoricamente a brevissimo, infatti vediamo la prima Mercedes scendere in pista, quella di George Russell, voglio aspettare due minuti dal termine della sessione per scendere in pista, per avere pista libera ed essere gli ultimi a effettuare il nostro giro. Leclerc in pool davanti a un Perez che sembra più in palla rispetto al compagno di squadra, poi Sainz in terza e Verstappen in quarta posizione, poi con un Hamilton comunque molto vicino a Max Verstappen e anche Russell non sembra male, Bottas sempre lì con i tempi della Mercedes. Scendiamo in pista prima con Leclerc, ho sbagliato, dovevo invertire le due posizioni, comunque scende in pista prima Leclerc, secondo Carlos Sainz, abbiamo tutto il tempo per effettuare al meglio il nostro giro e forse non siamo neanche scesi in pista per ultimi perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e teoricamente ci dovrebbe essere una vettura che scende alle nostre spalle, mi pare che sia una McLaren, mi pare che sia una McLaren alle spalle di Carlos Sainz. Comunque, non è un problema, no, un Alfa Romeo, un Alfa Romeo che è quella ovviamente di Valtteri Bottas che scende in pista per ultima. Vediamo con gomma nuova se saremo in grado di confermare la pole position con un Perez che è vicinissimo a Leclerc, ma abbiamo un tempo sicuramente molto migliore se la pista non è peggiorata tanto teoricamente. Possiamo fare un tempo molto migliore con entrambi i nostri piloti e possiamo puntare ad 1, 1, 2. Ed eccoci pronti per l'inizio del giro con Charles Leclerc inizia il giro per il Monegasco che sembra quello più in palla dei due questo fine settimana quindi il Monegasco non può sbagliare deve cercare di prendersi la pole per andare a competere con il compagno di squadra e cercare di recuperare qualche punto nella classifica piloti viste le prime tre vittorie nelle prime tre gare per il compagno di squadra spagnolo sta volando Charles Leclerc in queste prime curve ed è fucsia nel primo settore vediamo Carlos Sainz dietro di lui che teoricamente dovrebbe avere una pista leggermente migliore invece è giallo il primo settore della pilota spagnolo che quindi non riesce a migliorarsi ma aveva fatto un gran primo settore nonostante la gommosata forse era riuscito a sfruttare un po' di più la scia Charles Leclerc nella zona delle acque minerali una delle curve più belle di questo tracciato e secondo me una delle curve più belle del mondiale siamo alla chicane della variante alta dove nella realtà Charles Leclerc a inizio stagione ha fatto un brutto errore Verstappen Verstappen si prende la pole provvisoria ma Charles Leclerc è primo nel settore fucsia nel primo settore fucsia nel secondo settore quindi sta migliorando Carlos Sainz sta migliorando nel secondo settore Leclerc deve assolutamente andare a prendersi nuovamente questa pole dopo il gran giro di Max Verstappen in 1.15 596 Charles Leclerc si prende nuovamente la pole position con Carlos Sainz in seconda e finiscono qui le qualifiche è 1-2 per Ferrari il Charles Leclerc 1.15 396 che mi pare sia uno dei migliori giri della fine settimana ma non il miglior giro invece sia il miglior giro di due millesimi rispetto al tempo siglato nel Q2 con un grande Carlos Sainz 1.15 489 a meno di un decimo dal compagno di squadra compito portato a casa per la Ferrari 1-2 in qualifica davanti alle due Red Bull e alle due Mercedes Verstappen davanti a Perez Hamilton davanti a George Russell per quanto riguarda il resto della top 10 vota Socon Norris e Ricciardo con le due McLaren in fondo alla top 10 proseguiamo e siamo pronti per scendere in pista per la gara la tensione sulla griglia di partenza è ormai alle stelle tutto nella norma non manca molto alla gara la Ferrari ha brillato nelle qualifiche e saranno sicuramente soddisfatti delle posizioni in griglia ma la vera sfida sarà riuscire a mantenersi su questi livelli durante la gara la prestazione della Red Bull nelle qualifiche fa ben sperare ora il team deve sfruttare la posizione di partenza per replicare il successo anche in gara in cielo si addensano nubi minacciose è molto probabile che i team debbano vedersela con la pioggia in gara con premesse simili possiamo attenderci una gara mozzafiato ci aspettano grandi sorprese qui al gran premio dell'Emilia Romagna attenzione perché per la prima volta potrebbe esserci pioggia per ora ci dice parzialmente nuvoloso ma sembra che potrebbe esserci pioggia perché le nuvole si stanno addensando man mano che ci si avvicina alla gara possiamo proseguire da questa schermata naturalmente non dobbiamo modificare nulla nell'assetto delle nostre vetture dobbiamo semplicemente decidere la nostra strategia e sinceramente penso di voler prendere la strategia passando da medie ad hard perché dovrebbe essere la strategia migliore soprattutto con le medie possiamo pensare di andare lunghi e se dovesse davvero comparire la pioggia potremmo pensare di non dover fare un pit stop su un secondo treno di gomme slick prima appunto dell'arrivo della pioggia potremmo anche pensare addirittura di partire con le hard ma sinceramente con le hard penso che potremmo avere dei problemi all'inizio della gara quindi preferisco scegliere la strategia la strategia A e poi naturalmente valutare se passare alle hard per terminare la gara passare a magari due treni di gomme soft perché teoricamente dovremmo avere a disposizione anche un buon numero di gomme soft andiamo a vedere le mescole a nostra disposizione no ne abbiamo una nuova e una usata di gomma di gomma soft però ne abbiamo due di medie e uno di hard quindi teoricamente potremmo passare anche a media media soft se dovesse rimanere una pista asciutta e naturalmente se dovesse rimanere invece arrivare la pioggia dovesse arrivare un momento in cui dobbiamo passare le gomme da bagnato potremmo appunto pensare di fare un solo pit stop per passare da medie a gomme da bagnato quindi con entrambi i nostri piloti strategia A andiamo semplicemente a modificare il momento in cui fermarci perché qui ci dicono che il pit stop andiamo a modificare la nostra strategia pit stop al giro 26 per arrivare al giro 63 ciò vorrebbe dire circa 37 giri sulla gomma hard probabilmente possiamo pensare anche di fare un giro in più con entrambi i nostri piloti giro 27 per per Charles Leclerc poi naturalmente dipende dalla condizione della pista sembra che abbiamo un buon passo gara quindi forse potremmo anche pensare di allungare ulteriormente il nostro stint gestendo meglio la nostra gomma per quanto riguarda quindi Carlo Sainz andiamo a modificare anche per lui la strategia e andiamo al giro 28 forse perché eravamo al 27 con con Charles giro 28 per Carlo Sainz andiamo a ricontrollare la strategia e giro 27 invece per Charles Leclerc questa la nostra strategia partiamo con gomma media e avviamo la nostra gara è una giornata di cielo coperto per i piloti che hanno preso posizione in griglia e ora Charles Leclerc è in P1 vediamo se approfitterà della sua posizione in griglia e più indietro c'è Sainz oggi parte dalla seconda posizione davvero un'occasione d'oro le scuderie le scuderie sono pronte a partire si respira aria di grandi occasioni e la folla intrepidante attesa qui al Gran Premio dell'Emilia Romagna 5 luci che si spengono in questo istante parte il Gran Premio non abbiamo settato la partenza in effetti per i nostri piloti e dobbiamo subito andare con modalità potenza attenzione perché ha perso tantissime posizioni se non sbaglio Carlo Sainz questo è un errore da parte mia questo è un errore da parte mia Sainz è sceso in quarta posizione mi sono completamente dimenticato di settare per la partenza attenzione a Sainz che sta provando comunque il contrattacco nei confronti della Mercedes di Hamilton non riesce però a prendersi la posizione Verstappen in seconda posizione andiamo a spingere con entrambi i nostri piloti almeno per questa primissima fase di gara con Leclerc voglio cercare per quanto possibile di allungare subito e con Sainz dobbiamo cercare di rimontare ma in questo momento purtroppo con il pilota spagnolo siamo partiti molto male e si trova in una condizione in cui è difficilissimo sorpassare addirittura c'è un Perez dietro che ha perso anche lui delle posizioni ha perso una posizione è partito fortissimo Lewis Hamilton mentre Leclerc là davanti è riuscito subito a mettere un po' di vantaggio nei confronti di Max Verstappen andiamo di aggressivo cominciamo già a gestire un po' il carburante e anche la modalità ERS vediamo se riusciamo a mantenere questo vantaggio nei confronti della pilota olandese della Red Bull per tenerlo fuori dalla zona DRS già scappato via il pilota Monegasco mentre Sainz ora è lontano da Hamilton si è distaccato perché probabilmente ha provato un attacco ed è lontano Hamilton però non ha il DRS da Verstappen giro veloce subito per Charles Leclerc nel primo giro Carlos Sainz deve assolutamente cercare di rimontare nei confronti di Hamilton e provare il sorpasso perché penso che Sainz possa avere oltre ad un passo migliore rispetto al pilota della Mercedes avere anche un passo migliore forse nei confronti di Max Verstappen Sainz Sainz è riuscito in quando eravamo offline diciamo a passare Hamilton nella zona della Tosa se non sbaglio dovrebbero ora darci il replay eccolo sorpasso di Sainz nei confronti di Hamilton probabilmente si staccatone in fondo alla Tosa un punto in cui non è semplicissimo sorpassare è uscito fortissimo il pilota spagnolo e si è ripreso la terza posizione ora deve cercare di andare a riprendere Verstappen per riprenderci l'1-2 perché dobbiamo riprenderci questo 1-2 ed eccolo eccoli i meccanici e i box che esultano per un grande sorpasso da parte di Carlo Sainz che ora sicuramente può esprimere un po' di più il suo passo andiamo di aggressivo e andiamo a gestire un po' le altre modalità pian piano cerchiamo di rimanere vicini a Max Verstappen anche perché sta arrivando la zona di RS e Sainz sembra molto più veloce rispetto a Max Verstappen forse potrebbe tentare subito l'attacco con il DRS Verstappen a 2 secondi e 2 da Charles Leclerc che sta già provando a scappare andiamo in standard con Charles per cominciare a gestire anche le temperature delle gomme ecco Carlo Sainz andiamo on board con il pilota spagnolo ora non può forse ancora attivare il DRS lo potrà fare dal prossimo giro ma è comunque molto vicino e già si sente la scia nei confronti del pilota olandese sta già provando la rimonta il pilota spagnolo che quest'anno è veramente on fire e si vede anche da questa rimonta a parte la partenza ma si vede già che è on fire perché sta cercando di rimontare nei confronti dell'olandese Sainz è incollato a tre decimi lo facciamo spingere al massimo ora per cercare di prendersi la posizione andiamo di potenza e proviamo subito a fargli a farlo sorpassare ecco è vicinissimo è vicinissimo Carlo Sainz sarà una formalità il suo sorpasso nei confronti di Max Verstappen sverniciato il pilota olandese ed è seconda posizione Carlo Sainz addirittura si prende il giro veloce si è preso il giro veloce lo spagnolo ora deve cercare subito di scappare di togliere il DRS al pilota spagnolo sorpasso di Sainz nei confronti di Verstappen lo abbiamo visto e quindi non andiamo a rivederlo e già sta accorciando nei confronti di Charles Leclerc anche se sta spingendo al massimo e vediamo se riesce subito a togliere il DRS nei confronti di Max Verstappen andiamo di aggressivo di equilibrata in neutro nell'Hers un secondo e uno teoricamente dovremmo essere in grado di mantenere questo distacco con Leclerc che sta gestendo di più in questa fase Carlo Sainz può andare ugualmente in standard vediamo perché sembra che Sainz abbia un ottimo passo comunque un ottimo passo gara e quindi potrebbe comunque creare dei problemi al suo compagno di squadra Perez errore di Perez che ancora in quinta posizione ha allargato la traiettoria era in quarta e ha perso la posizione nei confronti di Lewis Hamilton che ha approfittato di questo errore è riuscito comunque a difendersi da Bottas il pilota messicano e qui la disperazione per il muretto per i box della Red Bull Leclerc incidente di Magnussen però sembra che non ci sia neanche bandiera gialla probabilmente è andato lungo Magnussen in quanto si trova in ultimissima posizione Leclerc con un vantaggio di 1,8 su Sainz che mantiene un vantaggio di 1,4 nei confronti di Max Verstappen ora cominciamo la fase in cui dobbiamo gestire anche per Carlo Sainz perché deve cercare di recuperare un po' di modalità ERS quindi lo mettiamo in accumulo c'è stato un errore da parte di Charles Leclerc che ha perso la posizione nei confronti di Carlo Sainz bloccaggio in curva 12 è andato lunghissimo proprio nella variante alta è arrivato Sainz che è riuscito ad accorciare a prendersi la posizione errore fortunatamente sempre 1-2 ma ora Sainz si trova davanti al compagno di squadra con Leclerc che sicuramente ha più passo nei confronti di Carlo Sainz e secondo me riuscirà a prendersi facilmente la posizione probabilmente potremmo anche pensare di dare l'ordine perché guardate quanto è più veloce Charles Leclerc che ha una gomma anche migliore rispetto a quella del compagno di squadra Verstappen sta leggermente accorciando ovviamente a un secondo e sei da Charles Leclerc vediamo Leclerc dovrebbe teoricamente riuscire a prendersi la posizione grazie all'ausilio del DRS poi cercheremo di farlo scappare con Sainz che andrà leggermente in gestione dovrà cercare comunque di mantenere fuori dalla zona DRS Max Verstappen arriviamo proprio alla variante alta con Sainz che vede Charles Leclerc incollato dietro di lui andiamo on board con il pilota Monegasco che sta prendendo tutta la scia e ovviamente ora lo facciamo spingere al massimo per fargli prendere la posizione lo mandiamo in potenza anzi modalità sorpasso per sfruttare subito tutta la potenza della sua power unit del suo ERS per prendersi la posizione con l'ausilio del DRS ed eccolo il sorpasso Charles Leclerc si riprende la prima posizione lo mandiamo in neutro e lo facciamo spingere solo sulle gomme e sulla modalità del carburante mentre con Carlos Sainz andiamo in gestione leggera della gomma e continuiamo in equilibrata sul carburante teoricamente Leclerc dovrebbe tranquillamente riuscire a prendersi il secondino di vantaggio nei confronti di Carlos Sainz addirittura Verstappen ora 2 secondi del pilota spagnolo Leclerc sta spingendo al massimo per andare a riprendersi il secondino nei confronti del compagno di squadra e metterlo fuori dalla zona DRS e riportarsi in vantaggio con un buon vantaggio nei confronti del compagno di squadra questa gara deve assolutamente vincere la Charles Leclerc perché sia per il suo morale ma anche perché lo merita perché sembra più veloce in generale rispetto al suo compagno di squadra 1.19.309 giro veloce per Charles Leclerc quando ci sono i primi P-Stop Zuz uno da Fettele Albon tutti dietro molto indietro nella graduatoria quindi per noi per ora non cambia nulla qua abbiamo tutti i tempi volevo vedere se abbiamo a disposizione anche una sorta di meteo ma non sembra per ora di poter avere visione della meteo a parte qui probabilmente semplicemente qui possiamo vedere come va il meteo è sempre abbastanza nuvoloso ma per ora non c'è traccia di pioggia si ferma Max Verstappen giro 26 era il giro impostato per noi dalla strategia P-Stop quindi per Verstappen al prossimo giro quindi dobbiamo necessariamente far fermare Leclerc anche se teoricamente abbiamo solo una vettura davanti a noi quindi forse possiamo continuare però direi di andare all'attacco al massimo e modalità potenza per entrambi i nostri piloti facciamo fermare prima il nostro Charles Leclerc e poi nel giro successivo il nostro Carlos Sainz andiamo a fermarci per evitare un undercut eccessivo perché non sappiamo qual è la forza delle nostre gomme di questa gomma sul lungo termine con una gomma usata media nei confronti della hard anche se sicuramente il pilota olandese avrà un leggero vantaggio con la gomma già in temperatura comunque con Leclerc andiamo a fermarci subito e il giro successivo purtroppo dovremo fermarci con Sainz che rischia di perdere la posizione nei confronti di Max Verstappen per questo lo stiamo già facendo spingere tanto box di slap per Charles Leclerc mentre con Carlos Sainz andiamo a spingere lieve usura della scatola del cambio attenzione vediamo lievi per il nostro gruppo propulsore andiamo a vedere la scatola del cambio al 39% quindi teoricamente dal prossimo gran premio dovremmo pensare di andare a sostituire il cambio potremmo già prenderci delle penalità perché siamo solo al quarto gran premio e già abbiamo un bel po' di usura sulla nostra scatola del cambio non so quale sia la percentuale di usura in cui dobbiamo cambiare comunque 39% per noi al momento Charles Leclerc si ferma il box mentre continua Carlos Sainz gomma bianca per Charles Leclerc dovrebbe essere tranquillamente davanti nei confronti di Max Verstappen che comunque sta arrivando quelle Perez quelle Perez che sta arrivando per fermarsi ai box mentre Carlos Sainz si ferma alla fine di questo giro Leclerc che rientra Sainz che ha fatto anche il giro veloce opzioni box gomma bianca per il pilota spagnolo e box di slap anche per Carlos Sainz mentre Charles Leclerc deve andare a spingere al massimo per mettere subito in temperatura le gomme cercare di non subire un undercut anzi un overcut da parte di Carlos Sainz che ha fatto un gran giro veloce andiamo a seguire Carlos Sainz prima del suo pit stop Leclerc a 20 secondi da Sainz teoricamente dovrebbe essere tranquillamente davanti aveva 2 secondi di vantaggio prima della sosta ai box e abbiamo poi Russell a 4 secondi e Verstappen a 6 secondi a 4 da Carlos no a 6 e mezzo da Russell quindi abbiamo ampiamente guadagnato nei confronti di Max Verstappen nel giro fuori che probabilmente Max ha incontrato molto molto traffico ed eccolo Sainz box di Slap ha mantenuto quei 20 secondi di svantaggio anzi di vantaggio nei confronti di Charles Leclerc attivato il limitatore eccolo gomma bianca per il pilota per il pilota spagnolo deve andare in accumulo Charles Leclerc sull'RS e sembra in ritardo sembra che l'overcut continui a funzionare alla grande per Carlos Sainz anche se si troverà con una gomma piuttosto fredda sta arrivando Charles Leclerc vediamo se si mette davanti il compagno di squadro o dietro probabilmente è dietro o no è davanti è davanti ma di poco con Carlos Sainz che teoricamente può spingere al massimo deve spingere anche Charles Leclerc in questo giro out deve andare di potenza anche anche Sainz ma direi di farlo andare in neutro lui di farlo andare in aggressivo e in equilibrata perché ha spinto di più lui nei due giri out quindi lo facciamo gestire un po' di più e facciamo gestire anche il nostro Charles Leclerc li mandiamo entrambi in neutro anzi entrambi in accumulo direi visto che abbiamo un buon vantaggio nei confronti delle due Red Bull andiamo a ricaricare la batteria in standard sulle altre modalità Leclerc un secondo e mezzo su Carlo Sainz cinque e mezzo di Sainz su Russell e poi cinque e mezzo di Verstappen da Russell e quindi abbiamo un enorme vantaggio ora nei confronti delle Red Bull abbiamo undici secondi e uno di vantaggio di Leclerc nei confronti di Verstappen è stato un disastro il pit stop per il pilota olandese perché ha perso veramente tantissimo margine carburante ridotto mentre Charles Leclerc si riprende il giro veloce della gara in uno diciotto e uno stiamo dominando con queste gomme bianche Leclerc due secondi a sette su Sainz 17 secondi di Verstappen da Carlos Sainz e no questo è dal leader quindi 17 secondi di Verstappen da Leclerc questo è il distacco reale tra i piloti 2,7 di Sainz da Leclerc 14,2 di Verstappen da Sainz con Perez a 8 secondi dal compagno di squadra possiamo tranquillamente metterci in conservativa e cominciare a gestire il nostro carburante usura sulle gomme buonissima gestiamo in neutro tranquillamente le RS cominciano ad esserci dei problemi di usura sul cambio anche per il nostro Carlo Sainz andiamo a vedere gruppo propulsori andiamo nel cambio anche per lui 39% 71% le RS il motore al 55% lievi danni al sottoscocca niente di grave per Charles Leclerc probabilmente ha avuto un contatto con uno dei cordoli sono cordoli comunque molto alti nella pista di Imola il cielo si è aperto quindi sembra che non ci siano più così alte percentuali di pioggia ecco il 10% la percentuale di pioggia nel prossimo minuto teoricamente dovrebbe essere Leclerc che infatti ha visto ridursi di un secondo il distacco da Carlo Sainz Sainz ora ha due secondi deve stare attento il pilota Monegasco perché naturalmente se dà l'opportunità a Sainz di rientrare in gara rischia di subire il sorpasso e questa gara deve assolutamente vingerla soprattutto perché è la gara di casa per Ferrari quindi sarebbe un gran risultato per il pilota Monegasco dopo aver vinto nel 2019 la gara in quel di Monza il vantaggio su Verstappen continua a essere molto molto ampio quindi possiamo stare abbastanza tranquilli i nostri piloti devono semplicemente gestire e stare attenti in questa fase di doppiaggio in cui le vetture là davanti sono molto fitte attenzione Sainz si è preso la zona di RS nei confronti di Charles Leclerc non voglio ostacolare non voglio problemi dobbiamo andare a non ostacolare compagno mi dispiace ma qui do gli ordini perché non voglio che ci siano problemi lasciamo passare Charles Leclerc dobbiamo cercare di evitare rischi in una gara in cui è molto possibile che ci siano degli incidenti visto che qua è molto difficile sorpassare non voglio rischiare di perdere questo 1-2 che può essere un grandissimo risultato nella gara di casa lasciamo Charles Leclerc davanti facciamo in modo che i due piloti tra di loro non si ostacolino probabilmente il problema al sottoscocca per Charles Leclerc è più grave del previsto visto che ha perso passo era a tre secondi di vantaggio nei confronti di Sainz piccoli errori da parte di Charles Leclerc che continuano a creargli dei problemi per questo Sainz in questa prima fase di stagione sta facendo molto meglio rispetto al compagno di squadra ci hanno preso il giro veloce Sergio Perez si è preso il giro veloce della gara per ora Carlos Sainz si mantiene a distanza dal suo compagno di squadra Monegasco probabilmente Leclerc ha avuto anche dei problemi nel doppiaggio e questo gli ha creato un po' di problemi infatti Sainz ora ha un secondo e quattro addirittura quindi possiamo tranquillamente rimetterli come ordine togliere l'ordine di non ostacolare il compagno e stiamo attenti a fare in modo che Charles Leclerc mantenga questo distacco nei confronti del compagno di squadra Leclerc ha un po' di pista libera davanti a sé quindi teoricamente all'inizio di questo giro vorrei fargli provare a fare il giro veloce ci proverò anche con Carlos Sainz se riesce a rimontare sul pilota appena doppiato che è una Williams teoricamente quella di Nicolas Latifi vediamo se riusciamo a riprenderci anche il giro veloce perché quel punticino comunque fa sempre comodo e soprattutto farebbe comodo a Charles Leclerc per accorciare nei confronti del compagno di squadra non spingeremo a massimo sul carburante perché siamo un po' troppo giusti con il carburante sta per iniziare il sessantesimo dei 63 giri previsti andiamo tutto all'attacco e ad utilizzare la modalità potenza sull'RS con anche Carlo Sainz direi ci proviamo con entrambi i nostri piloti poi tanto possiamo tranquillamente gestire nelle ultime fasi di gara con l'RS abbiamo un gran vantaggio come detto nei confronti delle due Red Bull vediamo che giro saranno in grado di fare i nostri due piloti on board con Charles non si è migliorato nel primo ma Fuchsia nel secondo settore ha preso anche un po' di vantaggio nei confronti di Carlo Sainz che purtroppo ha l'RS scarico ci prendiamo il giro veloce con Charles Leclerc che va subito in fase di accumulo e in standard con conservativa sul carburante fastest car on track per il nostro Charles Leclerc che si è ripreso un buon vantaggio nei confronti del compagno di squadra ora accumulo sull'RS abbiamo nuovamente 17 secondi di vantaggio sulle due Red Bull al limite se riusciamo a ricaricare possiamo pensare di provare un ultimo giro veloce per evitare che magari all'ultimo giro uno dei due della Red Bull possa pensare di togliercelo Charles le ultime curve lo facciamo spingere al massimo tranne in equilibrata sul carburante idem per Carlos Sainz per provare come detto il giro veloce anche se abbiamo poco RS con il pilota con il pilota spagnolo inizia l'ultimo giro per Charles Leclerc con due secondi di vantaggio nei confronti di Carlos Sainz proviamo a prenderci questo giro veloce con un po' di rischio probabilmente però proviamo a confermarlo per evitare che nell'ultimo giro spingono al massimo perché vedo che c'è un Verstappen che comunque sta spingendo ha guadagnato forse un secondo nell'ultimo giro meno di un secondo 1.18.5 teoricamente comunque il giro veloce di Charles Leclerc è molto migliore rispetto a quello a quello dei due piloti Red Bull andiamo a vedere i settori primo settore ancora una volta non si migliora a Charles Leclerc ma non si migliora neanche Carlos Sainz e purtroppo incontriamo del traffico quindi non credo che saremo in grado di migliorare il nostro giro ma teoricamente non dovrebbero essere in grado di rubarcelo secondo settore fucsia per Charles Leclerc nonostante il traffico però teoricamente ha incontrato il traffico nella variante alta quindi dovrebbe perdere un po' nel ultimo settore Sainz verde nel settore centrale quindi con lui possiamo tranquillamente andare a rallentare perché non sarà in grado di fare il giro veloce va a chiudere Charles Leclerc e vince la prima gara della stagione il GP di casa in Emilia Romagna non so se ha fatto il giro veloce ma è vittoria per Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz andiamo a vedere subito il replay Charles Leclerc vince la gara dell'Emilia Romagna quarta vittoria su quattro per Ferrari prima vittoria per il Monegasco ed è quarto 1-2 di fila per la scuderia di Maranello non so È stato senza dubbio il weekend di Charles Leclerc. Questo podio è il meritato riconoscimento del duro lavoro svolto da tutta la squadra. Oggi il pilota monegasco ha dimostrato quanto vale con una prestazione pazzesca. A completare il podio di oggi, altri due piloti che hanno dimostrato il loro grande talento. Dubito che la Ferrari sia rimasta delusa dai risultati di oggi. Oh, assolutamente. Ai box si staranno scambiando delle meritate pacche sulle spalle. Dopo un weekend di emozioni, la squadra è al primo posto della classifica costruttori. Il circo della Formula 1 prepara una gita nello stato del sole. L'Hard Rock Stadium sta allestendo il circuito per il grande spettacolo del Gran Premio di Miami. Che dire ragazzi, ancora un dominio totale da parte di Scuderia Ferrari. Prima vittoria in stagione per Charles Leclerc davanti al compagno di squadra che comunque riesce a limitare i danni. Giro veloce per 6, no, per 4 millesimi di Charles nei confronti di Carlos Sainz. 1,16888 contro l'1,16892 di Carlos Sainz. Incredibile questo risultato. 1,18494 per Verstappen. 1,18039. Praticamente un secondo e due più veloce il nostro giro veloce rispetto a quello siglato dalla Red Bull. Avevamo totalmente un altro passo. Charles Leclerc, nonostante l'errore alla variante alta, è stato tutto il fine settimana il più veloce e quindi meritava questa prima vittoria nel Gran Premio di casa all'autodromo Enzo e Dino Ferrari. Quindi, Leclerc, Sainz, Verstappen, Perez, Hamilton, Russell, Ocon, Bottas, Gasly, Alonso. Questa è la top 10 per i punti. Poi Norris, Ricciardo, Schumacher, Guanyu Jo, Magnus & Stroll, Latifi, Vettel, Albon e Yuki Tsunoda. Allora, possiamo proseguire per la classifica piloti con Carlos Sainz che vede ridursi il suo vantaggio nei confronti del compagno di squadra. 93 punti per lo spagnolo, più 11,82 per Charles Leclerc. In terza ancora Sergio Perez con tre punti di vantaggio nei confronti di Max Verstappen. Poi Russell davanti a Hamilton, le due Mercedes. In quinta e sesta posizione, classifica costruttori. 175, abbiamo già la bellezza di 70 punti di vantaggio nei confronti di Red Bull. Vantaggio impensabile anche nei confronti di Mercedes. 115 punti, Mercedes ferma a quota 60 punti. Ed eccoci tornati alla nostra dashboard. Abbiamo le email del fine settimana. Il periodo ATR sta per concludersi e purtroppo non abbiamo utilizzato così tante ore nell'ATR, nella galleria del vento, il simulatore CFD. Il periodo attuale di restrizioni dei test aerodinamici si concluderà tra una settimana. In allegato puoi trovare un riepilio delle ore di collaudo rimaste per il simulatore CFD e per la galleria del vento. Abbiamo 3,3 ore mauro estanti e 50 ore di galleria del vento. E naturalmente andremo a vedere insieme se teoricamente queste ore dovrebbero essere resettate per una seconda fase del periodo ATR. Andiamo allo sviluppo dei componenti dell'auto. Possiamo però, non possiamo progettare, non abbiamo nessuno slot di progettazione o di ricerca disponibile. Per quanto riguarda invece la produzione, non vengono utilizzate queste ore. Quindi teoricamente arriveremo proprio alla scadenza senza utilizzare quelle ore rimanenti. Questo è un qualcosa che naturalmente poi valuteremo nei prossimi periodi di progettazione. Dovremmo sfruttare al massimo quelle ore che abbiamo a disposizione. Panoramica del post-gara dell'Emilia-Romagna Grand Prix. Congratulazioni da parte di Patrick Stafford. Immagino che il consiglio sia felicissimo. Elevata la fiducia del consiglio. Entusiasta per le prestazioni di gara. Non poteva essere diversamente, visto che in queste prime quattro gare abbiamo completamente dominate. Ci manca solo un punto per fare il massimo dei punti nelle prime quattro gare. Solo il punto del giro veloce del terzo Gran Premio, quello in Australia. Possiamo direi proseguire nel nostro calendario. Abbiamo letto tutte le mail, il debriefing post-gara. Abbiamo ancora il problema del raffreddamento motore dell'auto 1 di Charles Clark e dei riflessi di Carlos Sainz che però abbiamo migliorato nell'ultimo episodio. Calendario urgente. Sottoscocca F22-1. Abbiamo poco a disposizione. Possiamo produrre dei pezzi. In effetti il sottoscocca ne abbiamo solo due, visto che probabilmente si è danneggiato. Abbiamo scarsa disponibilità per il sottoscocca dei nostri due piloti. Quindi andiamo subito a produrre un sottoscocca, anzi due sottoscocca. E ovviamente a produrre anche un almeno un alettone anteriore, visto che ne abbiamo solo tre a nostra disposizione. Produzione completata. Alettone anteriore. Abbiamo messo in sviluppo, come detto, l'alettone anteriore. Una copia dell'alettone anteriore di modo da averne teoricamente. Abbiamo quattro alettoni anteriori, quindi due per ogni vettura. E stiamo sviluppando, come detto, i sottoscocca. Verifica della fiducia del consiglio. L'abbiamo già verificato. Scatola del cambio in pessime condizioni. Quindi dobbiamo ovviamente valutare se sostituire il cambio su entrambe le vetture per il prossimo Gran Premio. Ho deciso di affrontare il prossimo Gran Premio ancora con quel cambio. Poi valuteremo naturalmente la sua usura per l'ultimo Gran Premio. Teoricamente con cui lo utilizzeremo il sesto Gran Premio. Andiamo a vedere il calendario. Anzi, i circuiti per il Gran Premio di Spagna. In cui teoricamente dovrebbe essere fondamentale il nuovo cambio. Però valuteremo naturalmente se utilizzarlo o modificarlo, cambiarlo, proprio per la gara di Spagna. Comunque saremo sicuramente in difficoltà. Non so come si migliori l'affidabilità del cambio. Penso comunque che migliorarne la resistenza sia un compito di fine stagione, di pausa tra le stagioni. Possiamo proseguire nel nostro calendario. Abbiamo il progetto del sottoscocca completato. Quindi teoricamente se riusciamo a produrre almeno un pezzo in tre giorni, quindi probabilmente lo avremo a disposizione solo per il Gran Premio di Spagna, il nuovo sottoscocca. Andiamo a sviluppare un nuovo progetto. Visto che abbiamo terminato il progetto del sottoscocca, possiamo pensare di sviluppare non un nuovo telaio, ma più che altro un nuovo pacchetto di pance laterali potremmo pensare di sviluppare per il futuro. E teoricamente dovremmo svilupparla a partire dal Gran Premio dell'Azerbaijan, del Gran Premio del Canada e del British Grand Prix, Austrian Grand Prix. Sono tutti circuiti in cui è molto importante la velocità massima della vettura. Quindi da Baku in poi possiamo pensare di sviluppare delle pance che ci garantiscono una velocità di punta molto molto maggiore nella nostra vettura. Teoricamente per Baku non credo che riusciremo a sviluppare un nuovo progetto delle pance. Direi di andare a sviluppare un nuovo pacchetto, un nuovo progetto per le pance laterali. Questo pacchetto di questo progetto delle pance laterali si focalizzerà sul raffreddamento del motore, che è uno dei problemi che abbiamo sulla vettura di Charles Leclerc, lo migliorerà nettamente di quasi il 7%. Abbiamo a disposizione esattamente 5 ingegneri, teoricamente completato tra 32 giorni e come detto il Gran Premio dell'Azerbaijan è tra 38 giorni. Quindi se prendessimo un approccio affrettato potremmo metterci 22 giorni e avere più tempo per andare alla costruzione di più pance laterali. Quindi spendiamo questi pochi soldi in più, sono 84 mila dollari in più, ne abbiamo a volontà grazie ai grandi risultati che stiamo riscontrando. E meno 252 mila dollari, scusate, andiamo a sviluppare questo nuovo progetto delle pance. Siamo purtroppo già arrivati al fine settimana, andiamo ai preparativi della gara e non siamo riusciti a costruire un nuovo pacchetto per il sottoscocca. Devo cercare di farlo in questo momento, però progetto di produzione sottoscocca già in corso. Ecco perché, perché stiamo costruendo dei nuovi sottoscocca di quelli vecchi. Teoricamente fin quando non saranno completati i sottoscocca spec 1 non potremo sviluppare gli spec 2. Siamo quindi tornati alla nostra dashboard. Ragazzi, se vi è piaciuto questo episodio ricordatevi di lasciare un bel mi piace per supportare questa serie. Ricordatevi di lasciare un commento con il vostro pronostico riguardante la prossima gara, il GP di Miami, nuovo circuito per il 2022. E ovviamente, se siete nuovi sul canale, se già non siete iscritti, vi invito ad iscrivervi al canale perché per me è un supporto incredibile. Per voi pochissimo tempo per cliccare quel tasto iscriviti, per me fa una grandissima differenza. E ovviamente, visto che ci siete, cliccate anche sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite di questa serie su F1 Manager 2022. L'appuntamento per il prossimo episodio ve l'ho già dato, GP di Miami, quinto round della stagione. Mi raccomando, non mancate. Alla prossima. Ciao Willers! Ciao Willers!